Un'altra cosa che vorrei fare al nostro gioco, proseguendo dal video precedente, sarebbe quella di aggiungere elementi grafici, uno sprite che non è compreso da Scratch. In particolar modo mi piacerebbe così, tanto per divertimento, per dare più oggetti di curiosità al gioco, che a un certo punto nel cielo del nostro gioco passasse un aeroplano con uno di quegli striscioni che si vedono spesso al mare. E allora cosa è successo? Che io sono andato negli sprite, quindi qui, alla ricerca di uno striscione e di un aeroplano adatto a poter trainare questo striscione nel cielo del nostro gioco, ma non ho trovato nulla che mi piaceva. Quindi ne approfittiamo per vedere come caricare uno sprite e quindi della grafica diversa che arrivi dall'esterno del nostro ambiente di sviluppo che è Scratch. Vado su una nuova pagina internet. Innanzitutto l'aereo e lo striscione potrei tranquillamente disegnarli, riportarli a computer e prenderli all'interno di Scratch. Ma io non so disegnare bene, non abbastanza. Quindi spesso mi appoggio a dei siti internet che offrono della grafica gratuita e libera da diritti d'autore da poter utilizzare nelle mie cose. Uno di questi è Pixabay. Scritto così, Pixabay. Premo invio. Raggiungo il sito. Eccolo qua. E adesso dico quello che mi serve. Allora, vorrei un aereo. Aereo. Lo cerco. Me ne propone un sacco. Io chiedo di avere l'aereo disegnato. Quindi invece che tutte le immagini, fotografie comprese, scelgo le immagini vettoriali. Così che mi appaiano dei disegni. Ecco, questo era quello che mi era piaciuto maggiormente. Per cui ci clicco sopra. E faccio il download di questo aereo. Mi interessa e mi piace in particolar modo questo. perché lo sfondo è trasparente. Questo quadrettato bianco e grigio mi dice che è trasparente. E quindi scorrerà tranquillamente sul mio cielo azzurro. E basta. Quindi adesso faccio il download per scaricarlo. Devo confermare di non essere un programma automatico, ma di essere una persona. Ed ecco che il mio aereo arriva e va a finire all'interno del mio computer. prendo visione che si chiama Children's Plane. Ok, vorrei anche uno striscione da attaccare al mio aereo. Allora, striscione. Vediamo cos'altro c'è. Torno di nuovo a dire immagini vettoriali. E vediamo se trovo qualcosa che può andar bene. Con la parola striscione non mi trova niente. proviamo a mettere banner. Banner, inteso come banner pubblicitario. Andiamo su illustrazioni. Eccolo qua, questo. Questo potrei trasformarlo in uno striscione da attaccare al mio aereo. Anche in questo caso vedo dei quadratini bianchi e grigi che è su sfondo trasparente per cui faccio il download. Quindi sono contento di questa trasparenza. Viene scaricato all'interno del mio computer. Vediamo. Ed ecco che la mia immagine sta arrivando. Si chiama Ribbon. Bene. A questo punto chiudo la mia pagina di Pixabay perché non mi serve più e mi ritrovo nel mio scratch. Quello che voglio fare adesso è acquisire queste due immagini come uno sprite per il nostro gioco. Quindi devo usare il comando nuovo sprite ma questa volta invece di usare questo dove dico scegli uno sprite vado a prendere questo dove dico carica uno sprite da un file. quindi clicco su carica vado in download dove tra le altre cose ho il mio aeroplano ci clicco sopra due volte eccolo qua molto grande in realtà e quindi cominciamo a sistemarlo. Vado in costumi perché è in costumi dove io posso agire sulla grafica del mio gioco e in questo caso modificare ridimensionare il nostro aeroplano. Allora in primo luogo vedo che il mio scratch legge l'immagine come un'immagine in modalità bitmap è una questione tecnica di formato immagine. Per poterla ridimensionare e lavorare meglio ho bisogno che sia in vettoriale cioè costruita con una serie di punti e di linee di vettori. Entreremo magari in un altro momento in questa distinzione. Dico semplicemente adesso converti in vettoriale. Non è successo niente visivamente ma ora la mia immagine è in modalità vettoriale e io qui ho degli strumenti che mi permettono di modificarla. In particolar modo ora ho la freccia che ho selezionato perché è blu clicco sull'immagine che mi appare con questi quadratini e andando in questa diagonale io posso andare a rimpicciolire il mio aereo. Eccolo qua che l'ho rimpicciolito e lo metto in questa posizione qua. Vediamo se ecco qua questo è il nostro aereo quindi queste sono le dimensioni reali dell'aereo. Potrei anche volerlo leggermente più grandino. Ok? Perfetto. Così mi sta bene. Quindi io ho il mio aereo pronto gli devo attaccare lo striscione. Questa volta non voglio che lo striscione sia un nuovo sprite un nuovo personaggio del mio gioco ma voglio che faccia parte dello sprite dell'aereo quindi che componga questa immagine. Per cui invece di andare qui dal quale ho caricato il file dell'aereo vado qui e dico importa perché mi permette di andare a importare il mio striscione ribbon si chiamava eccolo qua ci clicco sopra due volte ed ho ottenuto il mio striscione vediamo se eccolo qui copriva l'aereo andandoci sopra è già in modalità vettoriale lo devo semplicemente ridurre devo cercare di dargli una proporzione e una posizione giusta lo facciamo un po' più piccolo eccolo qua e lo mi lo posiziono qui questo è come risulterà sarà il caso di attaccarlo al nostro al nostro aereo per cui prendo una linea allora zoom l'immagine col più in modo da vedere più in grande l'area che mi interessa eccomi qua ho lo strumento linea già preso e vado ad agganciarmi qui allo striscione e vado ad agganciarmi qui per quanto riguarda la linea perfetto riduciamo un po' le dimensioni ora ci voglio scrivere dentro forza ragazzi per cui prendo il testo lo posiziono qui è un po' grande beh tanto provo a scriverci forza ragazzi forza ragazzi se lo posizioniamo con lo strumento freccia vediamo se riesco a farcelo stare ci sta a fatica è un po' grande c'è modo di ridurlo vediamo beh sì posso prendere la mia diagonale e ridurlo come ho fatto con le altre immagini e quindi adesso lo posso posizionare all'interno del mio striscione bene quindi questa è l'immagine definitiva che uscirà fuori il forza ragazzi è un po' basso e quindi lo vado ad alzare un po' all'interno della mia della mia pagina perfetto quindi noi abbiamo creato un nuovo sprite un nuovo personaggio importando la grafica dall'esterno ora vado sullo script e do i comandi a questo personaggio per entrare in gioco quindi per entrare a funzionare quali possono essere i comandi che permettono all'aereo di passare su nel cielo posso andare su intanto posso dirgli guarda quando il gioco inizia quindi quando viene premuta la bandiera a un certo punto fai uscire il mio aereo però io ho imparato facendo le prove che come prima cosa sarebbe una bella cosa nasconderlo cioè dico viene cliccata la bandiera e l'aereo sparisce quindi vado in aspetto e dico nascondi così si resetta il gioco i vari i due personaggi i due corridori vengono posizionati alla loro posizione i sassi vengono nascosti così pure l'aereo viene nascosto bene poi gli dico di aspettare un pochino non voglio che il mio aereo passi subito voglio che sia un po' una sorpresa mentre loro stanno correndo voglio che passi l'aereo per cui dico attendi e faccio attendere qui posso decidere io quanto far attendere ora metto 15 secondi tanto per per far attendere un pochettino quindi 15 secondi poi dico posiziona l'aereo nella posizione di partenza qui ho fatto delle prove voglio che sia più o meno a questa altezza fuori dallo schermo pronto per passare quindi vai a e io ho fatto delle prove con la posizione di x e di y e ho scelto 400 di x e 115 di y quindi l'altezza 115 posizione 400 ok poi a questo punto una volta posizionato l'aereo mostramelo vado su aspetto e dico mostra per cui l'aereo viene visualizzato ed ora gli faccio attraversare il cielo nota che questo 400 è una posizione fuori dallo schermo ho voluto apposta una posizione fuori dallo schermo perché così il mio aereo entrerà dallo schermo e lo si vedrà apparire e attraversare il cielo piano piano utilizzo un comando ripeti per questo motivo allora vado su controllo e dico ripeti e a questo punto gli dico fai meno 3 passi cioè passa quindi spostiamo la x in modo che tu venga avanti quindi in movimento fai meno 3 passi ecco fai invece di 10 passi gli dico meno 3 passi perfetto e poi attendi 0,1 secondi quindi vai qui nell'attesa allora 0,1 secondi perché non voglio che passi il mio aereo così a tutta velocità ma voglio che che lo si veda è un aereo pubblicitario quindi di solito passano anche pianino alla fine del passaggio in ogni caso nascondilo quindi torno a dire nascondi al mio aereo però ripeti 10 volte cioè lui fa meno 3 passi 10 volte saranno abbastanza queste 10 volte per far sì che il mio aereo attraversi tutto il cielo no ho fatto delle prove e quindi ho incrementato il numero e ho usato anche un modo diciamo più tecnico per farlo che ti spiegherò in uno dei prossimi video e ho fatto in modo che questo meno 3 meno 3 venga ripetuto talmente tante volte da vedere l'aereo uscire dal cielo dall'altra parte e ho dovuto e quindi ho scoperto che il numero giusto nel mio caso è 223 il numero giusto nelle prove che io ho fatto ora potrebbe non essere più giusto perché le dimensioni dell'aereo potrebbero non essere esattamente uguali a quelle che io ho utilizzato nelle prove però adesso proviamo il nostro gioco quindi ingrandisco lo schermo parto con la bandiera l'aereo viene nascosto stiamo aspettando potrei far correre i miei personaggi quindi io potrei tranquillamente giocare e a un certo punto dovrebbe apparire il nostro aereo dopo 15 secondi se tutto è andato bene eccolo qua il mio aereo che appare fa tutto da solo potrei continuare a giocare vediamo la scritta forza ragazzi e vediamo se va a scomparire dall'altra parte fuori dal cielo se non dovesse essere così dovrei agire su quel 223 per far sì che l'aereo compia tutto il tragitto vediamo un po' ecco è sparito un po' presto è scomparso prima di uscire totalmente dallo schermo per cui volendo fare il lavoro preciso dovrei aumentare quindi fare nuovi tentativi e aumentare il numero 223 volte direi almeno un 200 235 volte e poi di nuovo provare il mio gioco a questo punto lo provo lo lascio andare ma direi che ti lascio fare le tue prove e trovare il tuo numero a seconda della situazione a seconda della grandezza che tu hai impostato al tuo aereo e una cosa importante da fare che non ho mai fatto cioè che ho sempre fatto ma non ti ho mai mostrato in video perché è banale ma è importantissima quando tu hai finito di programmarlo quindi hai detto ah questo è il mio il mio gioco può andare bene va salvato attendiamo se abbiamo indovinato il numero oppure no ok sparisce ancora leggermente presto ma mi fermo mi fermo qua salvo il mio gioco la mia situazione attuale vado su file posso dire download sul tuo computer potrei usare lo stesso nome se io volessi sovrascrivere la versione precedente quindi tenere solo la versione giunta a questo punto e questo è quello che si fa di solito io però desidero tenere anche le versioni precedenti e quindi dico la la corsa old 3 che era la versione attuale con aereo vado a metterla in scratch eccolo qui e faccio salva bene abbiamo finito per oggi ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto a commentarlo a condividere il video e soprattutto se ancora non l'hai fatto ad iscriverti al canale ciao ciao ciao